Milano 47 gradi all'ombra, percepiti 712, siamo tornati ancora una volta alla ricerca della prima vittoria reale in questa nuovissima season di Fortnite senza le costruzioni Quest'oggi però, anche se non riusciremo nel nostro obiettivo, non ce ne frega poi chissà tanto perché nel negozio, che se utilizzate il codice giocatori step, mi raccomando taggatemi un po' anche su Instagram fondamentale rispondo a tutti quanti C'è la nuova skin di Spider-Man che adesso andiamo ad acquistare ed è fighissima, mi basterà averla nell'armadietto per stare un pochino più tranquillo, voglio dare tanti pollicioni in su, commentate, scrivete la campanellina, io vi auguro una buona visione Bene ragazzi, qui è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video, questo acquisto supporta Stepney, il sottoscritto, chissà come se la passa male Spider-Man là dentro Che poi Spider-Man 0 sì, ma non la temperatura, cioè veramente ragazzi squaglia, tra l'altro ho visto che c'era anche il bundle con i dorsi decorativi di Among Us, cosa fai? Non lo compri? Lo lasci lì? Non esiste Siamo pronti, siamo carichi, forza a volare in game, che dobbiamo portarci a casa una vittoria ragazzi, non ce la faccio più Io lo so che appena ci sblocchiamo poi arriva una ruota, perché è solo la prima la più complicata Cascasse il mondo oggi alle cascate della realtà, non ci andiamo, anche se dovrei togliere le erbacce dal mio fruttino, ma non importa, me ne vado al Daily Bugle C'ho ancora qui la canna alla pesca challenge dell'altro giorno, raga, non riesco a buttarla giù, cioè non la digerisco Abbiamo compagnia, c'è un ragazzetto qua davanti col fiorellino, si è già preso una cappa, quindi stiamo attenti che abbiamo solamente un pompa Sai, col tre colpi quasi quasi posso anche provare Oh, oh, non ci provo, non ci provo Invece sì, e invece l'ho fregato, quanto godo, tantissimo Ma ti pare che spari a un nemico e poi gli volti le spalle in quel modo pensando che non torni dietro ad ucciderti? Sinceramente non so se c'era qualcun altro, ma nel frattempo noi ci facciamo i cavoli nostri Tiè, ormai non l'ho ricaricato Godo, tantissimo, non capivo da dove caspita mi stesse sparando Allora, noi siamo in safe, c'è un tornado che è dentro già vorrei raggiungere, non ho veicoli Posso usare un cinghiale, effettivamente, oh quel tipo là, guardatelo Se si ferma è morto Ma che caspita, si è fermato Se si ferma è morto Sì, sono molto concentrato, ho detto no, non mi importa oggi di vincere È una bugia Palesemente è una bugia, raga Ah Aia Ho fatto mancarlo sei volte Ho rischiato tantissimo perché sono un pirla Ma come è questo, non lo sapete, ho sbagliato, ho sbagliato, ho tirato quella lì Perché non è successo niente Abbiamo fatto un paio di decisioni Siamo accanto alla zona sicura Let's go Tra l'altro con upgrade Non so, può uscire di assalto Adesso è viola Non male Tanto sono le fasi finale della partita che mi fregano Se io intervengo nei combattimenti Alla fine della partita ci ritroviamo molte meno persone Dobbiamo andare Sono Spider-Man, un supereroe, devo salvare tutti Si stanno ammazzando Qua c'è una casa che prende il fuoco Due case che prendono il fuoco Oh, non ho provato a cecchinarmi tipo adesso Un altro veicolo di qua Un tipo a sinistra No, 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 questa roba non mi piace Guardalo, guardalo Morto Subito dentro O qua dietro Il cestino Cinque uccisioni Non male, non male Dai, Stefanino Devo recuperare assolutamente Quella pozione a 50 Che erano tre Quindi potevo risparmiare gli scudini Mannaggia a me Ah, ma c'era il pompa leggendario E anche la mitraglietta leggenda Let's go La mia auto fa un po' schifo Mi sa che cambio in cinghiale Andiamo E' anche meno rumoroso Dai, mangiamo un paio di funghetti qui Siamo bene Oddio Ragazzi, è difficilissimo sparare da questo coso Ma vaffangala Oh no Oh no, ti prego Eccoci, bella mossa E cavolo Stefano Sei un pirla Sei un pirla Sei un pirla Ti meriti di morire adesso Dovrebbero spararti Dovresti morire Ti meriteresti di implodere Come ho fatto A combinare questo guaio Adesso io non so come fare Cioè, devo recuperare assolutamente Questa posizione a 50 Se no è finita Mi piazzo qua nell'erbetta Non mi vede nessuno Ho un talento Per rovinare le partite Noi non abbiamo escape Perché non abbiamo né un rift Né tantomeno l'impulso Ecco, ma il tipo che c'era prima dietro Eccolo là Andiamo a rompergli Il cinghiale Oh, ne ha incontrato un altro però Uno dei due morirà Mi ha rubato la kill L'altro White Eh sì, Tonino Ah, casina Tonino Ma come scappa Batman Attenzione, questo è un combattimento epico, eh Batman contro Spider-Man Ma come scappa Eh, te lo sogni, bello mio Ho preso Al volo come un piccioncino Ho come uno stupido pipistrello Mi piace anche a me Batman, ragazzi Non fraintendete Però in questo caso, cioè Io avevo bisogno di eliminarlo Oddio, mi è mancato Meno male Siamo 1v1 E io sono in safe Lui non dovrebbe esserlo È impazzito Ha missato Ha missato Devo andare Non ci posso credere Non ci si vuole credere Non ci si vuole Non ci si può Vai in zona Ragazzi, abbiamo vinto Oggi che volevo giocare Solo per la skin di Spider-Man L'abbiamo vinto Pazzesco Voi direte ste È una normal Abbassa la cresta È una normal Lo so Ma vi rendete conto di quanto Ci abbiamo messo Per vincere una normal Sono emozionato Cioè, siamo riusciti Finalmente Non so neanche quante uccisioni avessimo Mi sembra 8 Credo Non ne sono sicuro Ma abbiamo ucciso anche Batman Cioè, capito? Eccolo qua Bellissimo Il fiore della battaglia Lo equipaggiamo E ne facciamo un'altra Tanto non abbiamo più la pressione Devo andare a potare il mio fiorellino Missione compiuta, raga Ci voleva la skin di Spider-Man Per vincere Allora è veramente un play to win Sto gioco Play to win Come sto dicendo? Play to win Oh mio Dio Mi sono tolto un peso Ci ho messo giusto quanto? 15 giorni a vincere Non ho parole Sono d'accordo con voi Ma ce l'abbiamo fatta Ti piace? Eh, la mia skin Ti gusta? Non ho sicuro Finalmente Possiamo dire di essere riusciti a vincere una partita No Ma non devo togliere le erbacce dal mio frutto Ma prima ce l'ha scritto di sì E non l'ho fatto Chi l'ha fatto per me? Raga, immaginatevi Un back to back win Ma abbiamo vinto Perché non sono andato in questo posto del male Adesso ci sto andando Fa un po' un pirla, eh C'è poco da dire L'ombrellino è veramente figo ragazzi Mi piace un botto Tra tutti quelli che hanno fatto E forse fra i più belli C'è un sacco di gente E come ci comportiamo adesso? Non so Se lui prende il fucile a pompa Ce ne dobbiamo andare Forse no Ce l'ho anche io in pompa È sceso Ok Ho preso? Raga l'ho preso? Raga l'ho cecchinato il noscope col barret praticamente Let's go Ma questa è la gasa per forza Cioè capito? Sono riuscito a vincere una partita Ci ho messo un'eternità Adesso apriamo tutte le casse È tutto nostro Si vola Step is back with the barret Guarda quello Possiamo provare a ucciderlo raga Se si ferma un secondo Abbiamo una pozione È andato Eccoci Bella mossa È il cavolo Stefano E mi scappa Come faccio A capire Dov'è? Se ha un cecchino Sono morto 120 Andiamo Eh beh Beh ci mancherebbe altro sai Non so se voglio veramente levare la mitraglietta comunque Ripensandoci Perché la mitraglietta è fortissima Quindi teniamo la mitraglietta e teniamo il barret Anche se ho un colpo a disposizione raga Uno Si sparano È un lavoro per Spider-Man Devastato Ragazzi sono tornato I'm back Devo fare anche la giocata Spaccare il muro col cecchino Devo trovare altri colpi di barret Altrimenti Questa gioia finisce molto presto Guardate questo sono io Che registro il computer Vediamo se c'ho ancora La skin Eccola qua Sì la skin Le motte Questo sono io in questo momento Che sto devastando tutti quanti Stai calmo Stefano Hai vinto una partita Le normal Prima te lo ricordi Meglio stai Oh ma mi hanno tirato una roccia addosso Ma come caspita di permetti Un colpo di cecchino è poco Ma basta e avanza Stefanino Guarda come scappa Tu pensi di fuggire Ma io arrivo Sì Quante ne hai? Due? Bene Benissimo Sto arrivando Sono qua Sono qua amico mio Sono qua Si sta curando È curato eh No 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 Stiamo calmi Stiamo calmi Ma io C'ero quasi riuscito Ma come ha fatto a salvarsi Ma chi è che mi rompe le scatole Mi stanno dicendo che sono un pirla Perché ho vinto un game E ho perso quello dopo Da un tipo che va in giro col trone di Star Wars Come ha fatto a salvarsi ragazzi Va bene va bene va bene Missione completata Ci siamo riusciti Non so se attribuire questa vittoria Alla skin appena acquisita Fighissima Mi raccomando Se acquistate qualsiasi cosa all'interno del negozio di Fortnite Continuate inserendo il codice Creatore Stepni In basso a destra Ogni 14 giorni Perché si toglie da solo Dopodiché taggatemi anche su Instagram Perché rispondo a tutti quanti Se non ci credete Basta che ci provate Andate su Instagram Mi taggate su E io vi rispondo Dati pollicioni in su Commentate Iscrivetevi alla campanella Nel prossimo prossimo video Qua sta per tutto Ok Adesso serve la win Con le build E una win in arena Non è facile Ma non è impossibile Ce la faremo ällare a tutti iuellement Non è facile Mi